Buonasera, ben ritrovati. Questa sera parliamo di influenza perché secondo gli esperti arriverà con le vacanze di Natale e metterà a letto circa l'8% della popolazione. Per capire come difendersi da questo malanno di stagione, in studio con me ci sono il dottor Carlo Alberto Tersalvi, direttore sanitario dell'ASL di Como e la dottoressa Anna-Lisa Donadini del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Como. Buonasera. Buonasera. Allora, parliamo della campagna anti-influenzale dell'ASL di Como, partita proprio in questi giorni con uno slogan ben chiaro. Influenza, noi ci vacciniamo, questo appunto lo slogan, la campagna. È partita dottor Tersalvi, come sta andando? Facciamo un po' il punto della situazione. Sì, devo dire che questa prima settimana è stata un pochino sotto le attese. rispetto all'anno scorso noi abbiamo circa un 8-10% in meno di persone che sono venute a vaccinarsi. Siamo intorno alle 3.000 persone, quindi è un dato che è un pochino inferiore rispetto a quello dell'anno scorso. Questo probabilmente è anche dovuto al fatto di tutto il rumore che hanno fatto la questione dei vaccini, il ritiro dei vaccini, che poi tra l'altro è rientrato, ma che forse ha spaventato un po' la gente. Tra l'altro il target è piuttosto ampio, anche perché l'obiettivo dell'ASL è chiaro. Sì, l'obiettivo dell'ASL è quello di vaccinare almeno il 70% della popolazione a rischio, quindi noi si parla di circa 70-75.000 persone. L'anno scorso siamo stati un pochino meno, anche perché c'era un po' meno paura dopo quella che era stata la paura dell'influenza H1N1. Quest'anno l'idea sarebbe quella di raggiungere il target. Purtroppo la gente deve, secondo me, ancora ricevere qualche messaggio perché deve capire bene che è importante vaccinarsi. Ecco, appunto, non bisogna vaccinarsi soltanto quando c'è la paura di qualche epidemia, pandemia, come ricordiamo nel caso del virus H1N1. Certo. No, la vaccinazione va fatta tutti gli anni, anche perché questo permette una maggiore protezione anche sulle successive epidemie, soprattutto per le persone che sono a rischio e che quindi con la vaccinazione riducono di molto, se non del tutto, la possibilità di prendere l'influenza. Quali sono le categorie a rischio? Ma le categorie a rischio sono tutte le persone che hanno compiuto i 65 anni di età e poi le persone, a partire dai 6 mesi di vita fino all'età adulta, che hanno condizioni di fragilità, quindi patologie croniche legate o all'apparato respiratorio o all'apparato cardiocircolatorio, apparato renale, le neoplasie, noi consigliamo anche la vaccinazione alle donne gravide nel terzo trimestre di gravidanza e quindi tutte le persone che, anche in età adulta, ma che avendo patologie croniche, sono in una situazione più vulnerabile rispetto a quello che può essere l'attacco del virus influenzale. Parliamo un attimo con la dottoressa Donadini, perché il dottor Tersalvi ha fatto un riferimento un po' alla confusione delle ultime settimane sui vaccini. Che tipi di vaccini appunto sta usando l'Asla? E soprattutto questa è la domanda che si fanno tutti i cittadini. Sono sicuri? Sì, quest'anno l'Asla sta proponendo due tipi di vaccini. Sono definiti split, ossia costituiti da frammenti di tre tipi virali che probabilmente circoleranno durante la stagione invernale. Sono frammenti di virus inattivati, quindi non vivi. Si tratta di vaccini estremamente sicuri. Un vaccino viene somministrato dai sei mesi di vita e in tutte le età della vita, per via intramuscolare, a livello del deltoide, del braccio. L'altro invece è somministrabile solo dai 60 anni in su di vita ed è somministrato per via intradermica, quindi una via più superficiale, sempre a livello del braccio, altrettanto efficace rispetto al primo vaccino. Sono vaccini che abbiamo già usato in passato, che non hanno nulla a che vedere con i vaccini che sono stati oggetto di indagini supplementari da parte di AIFA e comunque sono stati sottoposti a tutti i controlli di qualità che sono previsti dalla normativa prima dell'immissione in commercio. Quindi direi che da questo punto di vista possiamo davvero mandare un messaggio rassicurante ai cittadini. Anche perché c'è chi dice che tutto il clamore suscitato in queste settimane è però anche una dimostrazione del fatto che i controlli ci sono e funzionano. Come si controllano i vaccini? I controlli vengono fatti nella fase già di allestimento dei vaccini che avviene parecchi mesi prima l'immissione in commercio da parte delle ditte produttrici. Dopodiché c'è un ulteriore controllo prima dell'immissione in commercio chiamato controllo di Stato che è effettuato dagli organismi ufficiali di controllo. Per cui nel caso specifico che si è verificato nelle scorse settimane diciamo che a scopo precauzionale siccome i vaccini mostravano delle caratteristiche leggermente alterate dal punto di vista proprio dell'aspetto del vaccino stesso il AIFA che è l'organismo appunto che è preposto al controllo della qualità dei vaccini e dei farmaci ha disposto un blocco della commercializzazione ma temporaneo in attesa di ulteriori approfondimenti che per fortuna hanno dato esito negativo per cui c'è stata la riemissione in commercio. È importante quindi tranquillizzare i cittadini che i vaccini che vengono usati al momento invece sono assolutamente sicuri. Sicuramente, sì sì, assolutamente. Accanto alla vaccinazione però è importante conoscere anche le misure igieniche che è importante osservare. Quali sono? Allora, anche qui ecco dobbiamo dire che la vaccinazione è sicuramente importante come diceva il dottor Tersalvi per i soggetti più suscettibili ma ci sono alcune norme di prevenzione che devono essere adottate da tutta la popolazione proprio per evitare la diffusione del contagio. Quindi sono norme molto semplici, economiche che richiedono davvero poco sforzo e che comunque valgono in realtà per tutte le malattie infettive in generale. Si tratta di lavarsi molto frequentemente le mani soprattutto dopo aver tossito o starnutito e portarsi, coprirsi diciamo la bocca e il naso con un fazzoletto preferibilmente usa e getta quando si tossisce o si starnutisce. Questo perché? Perché i virus dell'influenza si diffondono proprio attraverso le goccioline di saliva che vengono emesse da parte di chi starnutisce e chi tossisce e tra l'altro anche la contaminazione delle mani con le secrezioni respiratorie può far sì che ci sia la diffusione del contagio. Un'altra norma sicuramente molto importante è quella di aver rispetto degli altri e quindi diciamo non frequentare luoghi pubblici quando si hanno sintomi influenzali quindi con febbre e sintomi respiratori e eventualmente anche usare la mascherina quando si accede a strutture sanitarie avendo in corso sintomi chiaramente influenzali. Quando si prevede l'arrivo dell'influenza a Como? Come l'anno scorso i dati che infatti abbiamo attualmente sono sovrapponibili a quelli dello stesso periodo dell'anno scorso quindi attualmente abbiamo una situazione di incidenza basale diciamo non abbiamo il movimento della curva epidemica quindi non siamo ancora entrati nel periodo dell'epidemia influenzale e si prevede che l'andamento sia più o meno analogo quello dell'anno scorso con l'inizio dell'innalzamento della curva epidemica nelle prime settimane di dicembre per arrivare all'acme dell'epidemia attorno alla quinta o sesta settimana dell'anno quindi le prime settimane di febbraio e poi ritornare ad una situazione basale verso le prime settimane di marzo. Torniamo dal dottor Tersalvi torniamo a parlare della campagna in sé abbiamo detto chi è la popolazione a rischio chi ha diritto appunto ad avere il vaccino gratuitamente e dove? Sì, tutte quelle persone, quelle categorie di cui ho detto prima quindi le persone che soffrono di patologie croniche e gli anziani, le persone sopra i 65 anni hanno diritto gratuito alla vaccinazione. Noi come l'anno scorso abbiamo organizzato una campagna avvalendoci dell'aiuto fondamentale dei medici nel benzina generale quindi dei medici curanti a cui abbiamo affidato diciamo la categoria dei grandi anziani cioè di quelli che hanno più di 75 anni e delle persone che sono costrette a letto quindi quelle domiciliari e che quindi non possono arrecarsi. A questo noi abbiamo aggiunto tutte le nostre sedi distrittuali i presidi distrittuali distribuiti su tutto il territorio provinciale e abbiamo coinvolto anche tutte le strutture erogatrici quindi ospedali, poliambulatori e l'RSA quindi tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia sono coinvolte in questa campagna questo per offrire la massima possibilità e libertà di scelta del cittadino di recarsi là dove ritiene più opportuno dove si sente più sicuro. Siamo in chiusura quando si conclude la campagna? Ma si concluderà la settimana prima di Natale quindi intorno al 20-21 di dicembre proprio per quello che diceva la dottoressa Donnadini perché ci attendiamo il picco verso la metà fine di gennaio quindi il vaccino per essere per poter avere effetto ha bisogno di un paio di settimane quindi la protezione con questa scadenza dovrebbe essere massima nel periodo in cui ci aspettiamo al picco dell'epidemia poi naturalmente nei presidi e nei distretti continuerà per chi desidera ad essere disponibile Bene, io ricordo che per ogni informazione è disponibile il sito dell'Asla di Como www.asla.como.it o il numero di telefono 031 370 963 Grazie per averci seguito Buona serata Grazie a tutti